benvenuti a parghelia il tuo resort a cielo aperto sulla costa degli dei in calabria qui puoi vivere un territorio autentico dove la bellezza è rimasta intatta nel tempo puoi dormire con la porta aperta e immergerti in una serenità assoluta a pochi passi della vibrante movida di trofea ti aspetta il maestoso santuario della madonna di portosalvo impreziosito dai dipinti della scuola napoletana la spiaggia di michelino una delle più belle al mondo scegli parghelia per scoprire tesori meravigliosi un'oasi incantevole per le tue vacanze di qualità parghelia il tuo resort a cielo aperto